Ciao a tutti ragazzi, finalmente sono riuscito a trovare il tempo per realizzare la ciabatta Arduino Pro tanto attesa. Rispetto al modello precedente, questa versione offre il vantaggio di poter accendere o spegnere il relay attraverso il vostro smartphone o qualsiasi altro dispositivo mobile con OS Android con una delle tante applicazioni dedicate. Potete accendere luci, aprire porte, tapparelle e quant'altro, sia da automatismi temporali interni sia direttamente da app. Ho voluto realizzare un modello molto più bello e professionale, ma soprattutto molto più contenuto rispetto al predecessore, inserendo anche dei led per lo stato uscite. Ho voluto lasciare il display 16x2 per chi potrà essere utilizzato, ad esempio, per la visualizzazione date e ora, temperatura, stato uscite e altre informazioni che potete aggiungere successivamente. Prima di entrare nel cuore del tutorial vorrei fare un ringraziamento ad un amico, Mauro Alfieri, che mi ha dato una mano a scrivere parte del codice di Arduino. Da ricordare che Mauro è anche autore e gestore di uno dei blog più famosi dedicati al mondo di Arduino, con spiegazioni e tutorial veramente interessanti e ben fatti. Vi invito a visitare il suo blog, www.mauroalfieri.it. Se volete, conoscere Arduino in modo semplice e veloce. Tra l'altro, stiamo lavorando anche la ciabatta Pro 2 con controllo Wi-Fi anche da fuori casa. State aggiornati e pollice in su se siete interessati. Vorrei anche suggerirvi un sito dove potete acquistare materiale dedicato al giardinaggio e fai da te a prezzi veramente interessanti. Il sito è www.manomano.it e potete trovare più di 180.000 prodotti, dalle grandi marche alle marche più economiche. Giusto in questi giorni mi è stato consegnato un seghetto alternativo Bosch e altri prodotti, tempi di consegne rapidissimi, ottimo rapporto qualità prezzo e servizio assistenza molto efficiente. Ricordo che in descrizione potete trovare alcuni oggetti scelti dal catalogo Mano Mano che vorrei consigliarvi, se volete entrare nel mondo del fai da te. Ma ritornando in tema, andiamo adesso a vedere com'è fatta la nuova ciabatta Arduino Pro. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.